La sua carriera inizia quando i fratelli d'Ardenne gli offrono il ruolo di Riquet nel loro primo grande successo di pubblico, Rosetta, Palma d'Oro al Festival di Cannes 1999. Da allora Rongione è diventato l'attore feticcio dei cineasti belgi, che lo hanno diretto in Lanfano una storia d'amore. Il matrimonio di Lorna, il ragazzo con la bicicletta e nelle recente due giorni, una notte, il suo talento ha presto oltrepassato i confini belgi e ha recitato in produzioni cinematografiche, televisive e teatrali in Francia e in Italia. Attualmente lavora tra il Belgio, la Francia e l'Italia, coautore di due one-man show con Samuel Tillman. Prosegue la sua passione per la scrittura associandosi a Eclectic Productions, una società di produzione con sede a Bruxelles. Nel 2002 ha ricevuto il premio Seul en Scène, solo in scena, durante il Prix du Théâtre, un importante festival belga legato al teatro. Nel 2005 fonda con Nicolà de Bormann, Samuel Tillman, Luis Philippe Mamertine e Stefan Eymans la casa di produzione di Bruxelles Eclectic Productions, che sviluppa le sue attività nel settore della produzione di film, fiction, documentari, animazione, ed il teatro. Nel 2013 e nel 2014 conduce la terza e la quarta edizione dei premi Magritte, il prestigioso riconoscimento del cinema belga. Grazie. Grazie.